Musica Una donna di 86 anni, Rosa Trumellini, è morta nell'incendio del suo appartamento questa mattina a Collegno in Corso Entoni. Le fiamme sono divampate in una palazzina di quattro piani. La donna è svenuta probabilmente per le inalazioni di fumo ed è stata individuata dai vigili del fuoco, ma era purtroppo, troppo tardi. L'equipe sanitaria del 118 ha dovuto constatarne il decesso per avvelenamento da monossido. Si ipotizza che a scatenare l'incendio sia stato un cortocircuito della stufetta elettrica. Grazie per la visione!